Ed eccoci all'inaugurazione della nuova stagione, la stagione che abbiamo intitolato Il dono, futuro e memoria. Perché? Perché questa è la stagione che scandisce un quarto di secolo di vita dell'orchestra, della Camerata Strumentale Città di Prato, che a suo tempo, 25 anni fa, è stato un dono che questa città si è dato, si è fatta un regalo e questo regalo ancora continua a produrre regali e doni per tutta la popolazione, per tutta la comunità. L'inaugurazione è il 17 novembre, qui in questo nostro meraviglioso Politeama Pratese. Sul podio avremo un direttore che è anche violinista, che ha già due volte collaborato straordinariamente con la Camerata Strumentale ed è quindi diventato un partner, un compagno di viaggio, direi, importante per i prossimi tempi, per i prossimi appuntamenti dell'orchestra. A cominciare da questo, che è disegnato in un modo davvero speciale. Ugo Ticciati suonerà Siluan Song di Arvo Pert, un pezzo per archi del 1991, intriso della spiritualità della figura di questo Siluan, con un carismatico monaco russo vissuto fra il 1866 e il 1938. È una preghiera di questo monaco russo che recita così, «My soul yearns after the Lord and I seek him in tears. La mia anima geme per il Signore e con lacrime lo cerca». È quasi una preghiera per iniziare la nostra stagione, da parte di quello che oggi è universalmente riconosciuto come il compositore più amato del nostro tempo, Arvo Pert, questo estone che ha superato il traguardo degli 80 anni. e dopo di lui un suo diretto, come posso dire, ramo di discendenza, Peteris Vasks, del quale l'anno scorso proprio Ugo Ticciati ha presentato, lasciando il pubblico elettrizzato a dir poco, il primo concerto per violino, «Distant Light». E abbiamo quest'anno l'occasione di aprire la nostra stagione con la prima esecuzione assoluta italiana del secondo concerto per violino di Peteris Vasks, un'opera composta l'anno scorso che si intitola, in conseguenza, diciamo, in linea diretta di legame col concerto precedente, «In Evening Light». Questa luce del crepuscolo, luce della sera, è la luce dei nostri tempi, è la luce di un'umanità che sta perdendo il contatto con la natura, un'umanità che si sta perdendo, in generale, nella propria capacità di relazione con l'ambiente e con gli altri esseri umani. E infine il concerto si completa con la grande sinfonia numero due di Johannes Brahms, uno dei pilastri del repertorio sinfonico, che ha un intimo legame per il suo respiro, ispirato appunto alla natura, con i pezzi precedenti. La spiritualità di queste due pagine di compositori baltici approda poi alla luce, alla gioia, alla eleganza tutta viennese della seconda sinfonia di questo grande maestro del pieno romanticismo tedesco. Ricordiamoci appunto che il 17 novembre facciamo festa per l'inaugurazione della stagione dei concerti della Camerata e questo sarà appunto il primo dono di una stagione, che è ricca di doni. Grazie a tutti.